Bene, rieccoci qui sul palco e abbiamo una speaker e un tema molto interessanti, è un piano editoriale sostenibile e sensato per i freelance e agile soprattutto, quindi chiamiamo sul palco Patrizia Riso. Ciao a tutti. Ciao Patrizia, buongiorno. Ciao. Ciao, grazie. Lasciamo subito la parola, pensiamo che insomma il tema di cui parlerai sia interessante e utile per tante delle persone che ci stanno ascoltando adesso e che ci ascolteranno poi dai video, dalla registrazione, quindi a te la parola. Grazie mille, grazie mille. Io sono molto emozionata perché il mio primo talk al freelance camp, nonostante sia socia da più di due anni e ho deciso di rompere per me il ghiaccio con un argomento veramente basilare, direi quasi banale, che ci credo assilla dal primo giorno in cui apriamo un canale social o veramente creiamo la nostra identità dal primo passo e ho deciso di scegliere questo argomento perché quando io ho creato nel 2021 in realtà il mio primo brand, quindi qualche anno dopo aver aperto la partita IVA in realtà e mi sono lanciata sui social, vedevo spesso, ho avuto un periodo di entusiasmo, come penso succeda molto molto spesso e poi vedevo spesso dei contenuti di persone molto in gamba, esperte di social media, quindi non è una critica ma proprio riporto cosa mi provocava a vedere alcuni contenuti in cui si diceva vieni che ti spiego come fare il tuo piano editoriale in un'ora e a me questa frase un po' creava, diciamo io mi sentivo un po' frustrata nel vederla pur con tutto il rispetto di chi ha davvero un metodo per farlo magari, sia da un punto di vista diciamo personale perché io credo nella lentezza del fare le cose, farle con un metodo anche perché bisogna tornare molto spesso su quello, su delle nostre idee e poi dal punto di vista, quindi non riuscivo comunque a realizzare quegli obiettivi e poi dal punto di vista professionale perché in realtà io sono una copywriter e consulente mi occupo anche di fare piano editoriale per i clienti e mi piace tantissimo e non ci metto affatto un'ora, poi bisogna fare tantissime distinzioni chiaramente di quale tipo di piano editoriale stiamo parlando solo blog, solo social, blog e social non entreremo, vi anticipo, in questi dettagli tecnici ma proprio torno a questa sensazione di blocco che è il contrario di agilità quindi quando siamo bloccati fondamentalmente mi sono chiesta ma che cos'è che mi blocca? allora perché mi ero un po' stufata di stare in quella fase di distasi di sentirmi anche di meno rispetto ad altre colleghe e colleghi e ho provato a riassumere quelle che per me sono delle motivazioni vi invito a completare in chat anche alla fine quindi problemi personali, intendo dire quando abbiamo qualcosa nella nostra vita che non è proprio liscio nell'ambito personale e quindi incide indubbiamente sulla volontà di raccontarci ovviamente lo giudizio altrui avere tante idee poco tempo che secondo me è quello che distingue le persone freelance da un'attività X perché se sei freelance hai tante idee io non credo nel fatto che non ci siano le idee di cosa raccontare, cosomai è il contrario anche la stanchezza e la pigrizia perché appunto soprattutto se facciamo dei lavori in cui creiamo diciamo dei contenuti e delle strategie per i clienti non abbiamo tanta voglia di stare sempre al computer di nuovo al cellulare a lavorare per noi e poi per me c'era anche questa motivazione credo che sia comune la consapevolezza che mi trovo anche su dei canali parlo soprattutto per esempio del gruppo Meta che recentemente è stato denunciato non so se avete sentito da alcuni stati negli Stati Uniti perché sono dei social, sono tossici nel senso sono creati per essere tossici ed è una cosa che sappiamo quindi non mi dilungo su questo perché sarebbe un talk a parte e c'è chi lo racconta meglio di me insomma tutto questo mix mi portava ad una mancanza di motivazione allora ho detto ma se io provassi a cambiare prospettiva e cito cosa è stato detto prima citerò ampiamente chi mi ha preceduto e mi concentrassi invece sul che cosa mi motiva a pubblicare quindi provo a cambiare la mia narrativa ora io ho un manifesto che ho chiamato della comunicazione sostenibile quello ne possiamo parlare in privato ho provato per questo talk a ispirarmi al decalogo della decrescita felice che è un decalogo diciamo di economia sociale di un movimento importantissimo che credo sia tornato veramente attuale in questi tempi meno male e ho provato a creare sintetizzare alcuni principi che mi potessero appunto motivare che mi potessero dire ma ok perché sono qui che cosa posso fare quindi appunto trovare il mio ritmo ridurre le aspettative questo fa bene nella vita come sul lavoro non aspettarci cioè che ci sia chissà cosa da quel post che pubblichiamo ma avere chiaro chiaramente l'obiettivo e adattare gli strumenti a me non il contrario quindi essere consapevoli chiaramente che gli algoritmi hanno il loro funzionamento perché altrimenti saremmo ingenui ma adattare al mio metodo e ai miei obiettivi queste caratteristiche tecniche e poi praticare le quattro R questo è un concetto molto presente benvenga sui social quindi se ne parla tantissimo ricicciare i contenuti lavorare meno e meglio fare comunità qui appunto se ne parla sempre tantissimo giustamente nell'ambito freelance camp e soprattutto questi ultimi due punti mi interessano molto cioè rendere la pubblicazione gioiosa c'è un momento che mi dà soddisfazione perché se non mi soddisfa non servirà a niente lo farò solo per un obbligo perché so che se no Instagram mi fa sparire o su LinkedIn qualcuno si dimenticherà di me non funziona e poi appunto è un punto per me molto importante è comunicare per cambiare narrazione e quindi integrare tutto quello che già hai detto perché altrimenti aggiungiamo solo rumore inutile ci sono tantissimi contenuti voi direte tutto bello come prima sono stati visti dei principi e poi però dobbiamo comunque essere presenti pubblicare e fare dei contenuti allora ho detto aspetta ripartiamo un attimo da le basi fondamentalmente per l'editoriale sono due fasi la creazione e la pubblicazione banale dicevo quindi il cosa dall'idea al testo al visual e poi la pubblicazione cioè quali come effettivamente l'idea fondamentalmente arriva sul canale quindi diventa pubblica diventa visibile diventa interagibile e quello che ho provato a fare cioè mi sono resa conto che spesso mi bloccavo perché non mi era chiaro il punto due cioè davo per scontato io non lavoro come social media manager quindi davo per scontate alcune cose invece quello che diciamo propongo è nel momento in cui viviamo questo blocco interrogarci tutto quello che abbiamo detto e poi partire paradossalmente proprio dal punto due che sembra meno importante del cosa ma in realtà è come dire voglio fare un viaggio mi stresso tantissimo per scegliere la meta ma non ho né una valigia né uno zaino e quindi mi mancano poi gli strumenti nel momento in cui dovrò partire mi manca il contenitore giusto per le mie cose da portarmi e quindi la sfida è proprio questa magari provare la sfida la proposta di sperimentare di partire da come è il mio flusso di creazione cioè cosa funziona meglio per me dove mi appunto le idee utilizzo un registratore vocale utilizzo la trascrizione automatica di google doc parto dal blog se ne ho uno parto dalla newsletter dove tengo le mie immagini dove ho dei modelli grafici magari li devo delegare a qualcuno perché non li so fare ho degli sfondi dove appunto da dove copio incollo il testo perché poi a un certo punto c'è questa azione e appunto mi sembrava che cioè mi sembra che questi dettagli non vengano molto approfonditi perché si danno un po' per scontati e poi una persona arriva e scopri che su Meta Business Suite non riesci a taggare le persone a volte non pubblica i post sono tutte cose che rallentano molto e quindi sistemarle prima paradossalmente di decidere cosa racconterò potrebbe essere una tecnica per rilassarci cioè per dire ok quella parte è sistemata non vuol dire che è rigidamente sistemata ma intanto ho un sistema un sistema più o meno rodato poi posso modificarlo liberamente come voglio nel momento in cui ho sistemato questo aspetto posso tornare sul cosa e sarò forse se tutto va bene un po' più appunto dicevo rilassata e quindi ho provato a sintetizzare sul cosa le quattro macro categorie di contenuti ripeto cose veramente che probabilmente sappiamo tutti e tutte benissimo credo che siano queste le macro categorie ma anche qui aggiungete e completate voi stessi commerciali identitari divulgativi e di intrattenimento quindi una volta che io so che ho queste quattro macro categorie è possibile non devo necessariamente realizzarle tutte perché no posso decidere che su un canale faccio solo contenuti di intrattenimento se per me funziona e mi diverte quindi partire da queste diciamo pilastri che più o meno valgono sia per persone che per aziende fondamentalmente è divertirmi anche un pochino ho inserito la categoria gatti che è una sotto categoria di intrattenimento con gatti innanzitutto c'è la grande invidia per chi ha degli animali domestici e può utilizzarli nel proprio personal branding in maniera coerente io non ne ho ancora ma intendo dire tutto quel tipo di contenuti che non rientra nelle cose ovvie anche se paradossalmente Instagram è pieno di gatti però tutto quello che possiamo un po' immaginare fuori dalle righe e che ci rappresenta e che chiaramente funziona per il nostro pubblico su queste quattro categorie possiamo combinarle ovviamente con il sistema che dicevamo prima ma anche se abbiamo sistemato il nostro flusso di creazione il nostro flusso di pubblicazione quindi diciamo lato tecnico lato contenutistico abbiamo definito di cosa vogliamo parlare e come questo non ci assicurerà che non vivremo un blocco nuovamente perché come dicevamo ci sono anche degli elementi contingenti che non dipendono da noi problemi personali qualunque cosa può succedere di fuori quindi dico se facciamo tutto questo e viviamo comunque un blocco cosa possiamo fare per non ricadere nell'angoscia della pubblicazione tutto quello di cui in parte ha parlato la mia omonima Patrizia Prima che ringrazio tantissimo le relazioni cioè la proposta che io faccio è di integrare fondamentalmente il piano editoriale stendere lo sguardo non vederlo solo come un input che io metto nel web e via ma tutte le azioni che noi fondamentalmente magari facciamo già in automatico se siamo se abbiamo lavorato di di strategia condivisione commento tutte queste azioni fanno parte del nostro piano editoriale quindi in realtà io magari sono convinta di stare vivendo un blocco perché non pubblico da tre settimane ma in realtà magari in quelle tre settimane ho interagito con contenuti altrui ho contattato un vecchio cliente appunto come si diceva prima ho messaggiato con qualcuno su LinkedIn tutto questo per me fa parte del piano editoriale ho creato questo acronimo che forse sembra tipo progetto Emilia Romagna troppi anni che vivo a Bologna ma insomma mi piaceva questa R aggiuntiva perché appunto è un tema costante nel freelance camp come dicevamo e credo che faccia davvero la differenza anche per la nostra autostima base che ci serve come abbiamo visto sia per relazionarci con i clienti in maniera consapevole e sia anche per continuare a promuoverci con nuove possibili opportunità lavorative quindi la proposta è di vedere il piano editoriale a 360 gradi con tutto questo bagaglio di cose che abbiamo visto quindi ho analizzato il mio blocco ho trovato le mie motivazioni ho provato ad estendere un pochino l'ottica quindi non vedere solo il post il singolo post come parte del mio piano editoriale ma tutte le azioni adesso connesse che mi portano ad interagire con qualcuno posso tornare a quello che la domanda che dicevo prima che all'inizio che mi aveva un po' la mia reazione diciamo a quella domanda non la domanda in sé chiaramente mi aveva provocato un po' di frustrazione dici ma io in un'ora che cosa riesco a fare allora un'altra proposta è di farvi la vostra farci la nostra lista personalizzata di cose che effettivamente noi realisticamente con le nostre capacità o con le nostre risorse perché ovviamente c'è sempre per chi può la delega capisco cosa delegare come si diceva prima posso farmi una lista di azioni che realisticamente faccio in un'ora quindi io ho fatto delle proposte che appunto sono un mix di quello che magari viene visto come territoriale un po' strategia per me io sono per la mescolanza diciamo tra le cose perché a volte incasellare troppo ci aiuta a comprendere la realtà come sappiamo ma ci può rendere rigidi che è il contrario dell'agilità e quindi perché no posso trovare delle parole chiave posso appunto aggiornare i miei modelli grafici posso preparare una bozza di articolo posso rivedere tutti i miei contatti follower o contatti crm citato prima posso prendere tre vecchi post e vedere cosa posso farci di nuovo senza stressarmi su oddio che cosa devo dire posso preparare un contenuto in collaborazione quindi vado a vedere una persona con la quale mi piacerebbe collaborare online posso farmi un elenco di notizie rilevanti questo è un punto per me molto importante io sono anche giornalista pubblicista e credo che sia davvero importante per cambiare la narrazione quindi che cosa volete dire in generale che non è strettamente attinente ai vostri servizi che cosa fa la differenza quindi crearvi anche un perché no una rassegna stampa e poi farvi una lista di strumenti spesso a me capita penso a tutti di vedere quei video in cui si consigliano tanti strumenti tanti software io tendo molto al minimalismo quindi ad usare meno cose possibili proprio in generale e quindi mi segno tutti questi consigli perché magari adesso non mi serve un software per creare un funnel automatizzato ma tra tre mesi mi servirà e quindi non uscirò nuovamente pazza per cercare dei suggerimenti online ma avrò già una lista potremmo aggiungere un brainstorming con chat GPT perché no utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione adesso che abbiamo visto questo percorso appunto spero di non aver deluso nessuno perché non non darò nessun rimedio magico per essere costanti o per pubblicare dei contenuti fantastici perché c'è già chi lo fa meglio di me online ma quello che mi interessava era cambiare prospettiva appunto cito continuo a citare a mani basse chi mi ha preceduto perché è la ricchezza di questa comunità e posso finalmente divertirmi se io ho chiaro il mio flusso di creazione ho chiaro a chi mi sto rivolgendo e chiaramente ho fatto tutte queste cose in strategia ecco altrimenti il pianitoriale è superfluo da fare posso finalmente divertirmi con quella che ho chiamato improvvisazione agile e strategica che è questo mix tra una farfallina che vola e un ingranaggio che funziona bene divertiamoci quindi ascoltiamoci non facciamo le cose per obbligo cerchiamo di ovviamente curare creatività e spontaneità con il filtro della razionalità strategica ovviamente quindi che non passi pubblicate quello che volete quando volete ma imparare anche a fare un brainstorming con noi stessi o con altre persone o con strumenti come dicevamo e poi per esempio io adesso forse sconvolgerò qualcuno non ho parlato tanto di quello che faccio io perché diciamo preferivo astrarre il più possibile per condividere delle buone pratiche io per esempio adesso ho un piano editoriale che è un Google Doc io segno tutto lì utilizzo la titolazione per dividere le mie categorie ho dei dei sistemi grafici per per muovermi agilmente in questo file e io pesco da questo file quando voglio fare o capisco che mi serve perché è da un po' che non lo faccio un contenuto diverso da quello precedente quindi alterno le categorie di contenuto non sono una fan ma ripeto è il la mia il mio modo della programmazione a lungo termine perché non la vedo coerente col mio modo di lavorare quindi preferisco il breve termine perché lo ritengo anche più autentico perché magari programmare adesso il post di Ferragosto mi viene un pochino un pochino difficile cosa che mi è stato suggerito quando io lanciai il mio brand quindi per quello lo riporto non è ripeto non è una critica ma è proprio trovare il proprio metodo anche un po' fregandosene di quello che ci dicono gli altri o meglio ascoltandolo con attenzione e filtrandolo alla luce delle nostre competenze esperienze e del nostro sentire e con questo modo posso con questo diciamo approccio posso sperimentare delle pratiche flessibili organizzare le mie tempistiche senza per forza obbligarmi a fare le cose in un'ora o a fare tutto in poco tempo anche se sappiamo benissimo che abbiamo quella quella spada di Damocle che è fare le cose e fare le cose e fare le cose ecco l'invito quindi è a sperimentare diciamo mettersi in discussione però con gioia e vi lascio con questa citazione di questo libro molto bello che sto leggendo in questo periodo che si chiama Pensa come una pianta di Stella Saladino e quindi un invito a valorizzare la nostra flessibilità per metterci in discussione formulare pensieri diversi trovare nuove soluzioni e perché no ispirarci al mondo intorno a noi che è molto composito molto complesso e molto ispirazionale grazie grazie tantissimo Patrizia grazie anche perché libro come regalo di Natale abbiamo il titolo fantastico sì consigliatissimo è veramente bello apre dei mondi prima giustamente la mia monima Patrizia diceva lei parla di marketing con i cuoricini si può parlare di marketing ispirandosi alle piante paradossalmente poi non è marketing è flusso di lavoro però mi piace l'idea di pescare da altri mondi non solo da dal nostro piccolo orticello bello grazie un pensiero vegetale molto sistemico esatto esatto allora qua Patrizia la tua monima sta dicendo che oltre alla fattura dei metterà in agenda il per dei esatto e questo rispetto al mettere in agenda poi ne riparleremo nella seconda parte quando anch'io parlerò di come non dimenticarci di fare le cose benissimo bene grazie grazie a voi per o tanto Patrizia e alla prossima grazie mille buona continuazione ciao grazie